Ehi la cv ormai, io sono Rezzatessa e benvenuti in questo piccolo vloghino per parlare di un paio di cose che sono successe nel canale Era un po' che non ci sentivamo e ho pensato quindi che fosse venuto il momento per prendere la parola e il microfono in mano e dirvi tutto quello che penso No, comunque, primo punto, come avevo già detto sul canale Telegram, ho avuto dei problemi abbastanza seri con il computer Perché in pratica mi si era impallato l'account Microsoft per collegarmi a Windows 10 entrando E non sono riuscito a fare assolutamente nulla se non poi alla fine formattare quella partizione Il problema è che formattando quella partizione mi ha mantenuto dei dati ma non tutto Quindi ho perso un sacco di roba e ho dovuto reinstallare praticamente tutto da capo, le applicazioni, i giochi eccetera eccetera Ci ho messo tre giorni praticamente di download, tre giorni di download per reinstallare i giochi e le applicazioni che avevo Reimpostare i programmi, ho avuto anche un pochettino di problemi con l'OBS perché avevo delle impostazioni che non avevo reimpostato Un sacco di macelli, un sacco di macelli Per fortuna, per fortuna avevo dei backup di buona parte delle cose Perché altrimenti avrei fatto la cavolata dell'anno E quello che ho perso e che riguarda il canale sono in realtà solamente Conan Exiles Come avrete potuto vedere perché ne abbiamo fatto una live un paio di settimane fa dopo lo spiacevole evento E For the King che stavo recensando di cui abbiamo già parlato in una live passata E al cui riguardo mi sono rimesso a lavorarci sopra For the King è per una recensione come potreste sapere E niente, sono tornato a lavorarci sopra tempo permettendo Perché in più questo si è andato ad aggiungere a un periodo già molto movimentato di per sé Perché ho già degli impegni familiari che mi richiedono molto tempo Sono indietro con lo studio quindi il tempo che ho libero dallo studio non è tantissimo E ho cercato di dare la priorità a Expeditions Conquistador in questo periodo Perché è la serie che sarà di sicuro più lunga e che vorrei terminare il primo possibile Visto che il 27 aprile dovrebbe uscire Expeditions Viking E speriamo che mi rinnovino la key Mi avevano mandato la key per quanto riguarda la closet beta E infatti ho registrato qualcosina ma non ne ho fatto un video al riguardo Perché comunque c'erano ancora varie cose da fixare, dei bug La storia non era ancora completamente a posto Quindi ho deciso di non caricare ancora niente su Expeditions Viking Però se tutto va bene ne sentiremo parlare prossimamente Ne sentirete parlare prossimamente Sul canale Quindi purtroppo sono saltati i video di MyTest Sono saltati i video di X3 A proposito di X3 io volevo assolutamente ringraziarvi Perché ho notato che sono cresciute parecchio le visualizzazioni dopo l'inizio della serie E vi dico ci sto lavorando Nel senso che per fortuna non ho perso il salvataggio E quindi sono esattamente allo stesso punto in cui ero prima Ho però un bel po' da farmare Cioè mi sto esplorando tutti i sistemi In più ho perso delle navi nel frattempo Delle astronavi E quindi sto commerciando Cercando di farmare un po' Per avere un pochettino di progress per il prossimo video Purtroppo ci vogliono davvero tante ore Sono almeno una decina di ore che ci sto lavorando al prossimo episodio Ma ancora non ho molto da mostrarvi Più che altro preferisco fare pochi video Ma fare dei video di qualità In cui succede qualcosa Non dei video smorti come tipo gli ultimi In cui giravamo, esploravamo due sistemi Facevamo dei comandi in remoto Per le nostre astronavi commercianti E boh, niente di che A proposito delle recensioni Invece vorrei parlarvi un attimo delle recensioni che ho in corso Nel senso Sto lavorando a parecchie cose in questo momento E forse un po' troppo Però mi hanno mandato molte cose E mi sono fatto prendere un pochettino la mano E quindi vorrei un attimo Parlarvi rapidamente di Su che cosa sto lavorando Perché Mi piacerebbe che ne aveste un'idea Prima che esca il video Anche per un discorso di sincerità con i publisher Che mi hanno mandato queste key Gratuitamente per recensire il gioco Di cui assolutamente non ho ancora avuto il tempo E me ne scuso grandemente Per completare il gioco E per farne una recensione Io per essere del tutto serio E per mostrarvi solo delle cose completamente analizzate Ecco Ho deciso di farle da un punto di vista professionale E quindi completare il gioco In tutti i casi Prima di farne una recensione sul canale Altrimenti Mi sentirei Troppo parziale Nel senso che le prime ore potrebbero influenzare In modo sbagliato il giocatore Quindi io voglio sempre finire Completare il gioco Prima di potervene parlare chiaramente Però Visto che alcuni giochi di questi Che ho in cantiere da un po' di tempo Non ho ancora la recensione sotto mano Pronta da fare E vorrei un attimo anticiparvi Su cosa sto lavorando in questo periodo Sono lavorando da Agatha Christie V.A.B.C. Marjors Che è un gioco su Poirot Un giallo Tipo quelli di Sherlock Holmes Molto fatto bene Però Mi sta Richiedendo un po' di tempo Ne avevo parlato tra l'altro Anche nei migliori giochi Che ho giocato nel 2016 Quindi Potreste averlo già sentito Ho ricevuto da poco Battle Brothers Che è un gioco molto bellino Però Devo ancora Iniziarlo Perché l'ho ricevuto In questo periodo In questo pochissimo tempo Car City Driving Che secondo me Potrebbe piacere molto A commentatore video E a chi di voi ama i simulatori Tipo gli appassionati Di Eurotrack Simulator 2 Perché è in pratica Un simulatore di guida Di automobili Tipo Test della patente Una roba del genere Perché ti fa fare Tipo i parcheggi a S Delle manovre in retromarcia Girare nel traffico Ti dà delle penalità Se non usi le frecce Eccetera eccetera E' molto ben fatto Graficamente E' un po' Pesantuccio E anche come comandi Postazioni nel menu Insomma Il budget era poco Si vede Con Erexires Niente Già lo sapete Che ci stiamo lavorando Il fatto che E' in early access Mi impedisce In pratica Di farne una recensione completa L'abbiamo però portato in live Sto lavorando su The Sync Anche che è un bellissimo gioco Ma molto 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 punitivo E quindi Cioè ci sto morendo Tantissimi amici Vorrà un bel po' Per riuscire a completarlo Io in altar E' un gioco In coppia locale E quindi Ci ho giocato un po' Con gli amici Adesso ho cercato di continuare Un po' da conto mio Ma è molto più noioso Do sole Perché è un gioco Molto innovativo Tra l'altro vi consiglio Di darci un'occhiata In cui Si controlla il proprio personaggio Da smartphone Quindi si è tutti sul divano Tipo e si controlla il personaggio Che si muove sul computer Con il proprio smartphone E si interagisce Anche se entra di loro E si hanno Dei dialoghi differenti Expeditions Conquistador Lo sapete Che lo sto portando Sul canale Al posto di fare Una recensione Ne faccio una serie For the King Detto prima Ci sto lavorando Holy Potatoes A Weapon Shop Ci sto davvero Passando Fin troppo tempo Non vedo l'ora Che finisca Holy Potatoes We are in Space Vorrei iniziare Un'olta Che ho finito A Weapon Shop Little Briar Rose E' praticamente pronta La recensione Devo solo editare Il video E spero di poterlo fare Presto per potervelo portare L'avevo già detto Che l'avrei portato La scorsa settimana Ma non ho avuto Il tempo Purtroppo Lord of Tsulima Mi ci va Un mondo di tempo E quindi Boh Speriamo di riuscire A portarlo Prima o poi Sul canale Rise and Shine Ho quasi finito il gioco L'ultima parte È abbastanza complessa Quindi ho dovuto Riniziarla Più e più volte Sombrero Spaghetti Western Mayhem È un gioco Multiplayer Che però Non trovi nessuno Online Quindi devo trovare Qualcuno per giocarsi In locale E registrarlo Avevo già fatto Una cosa del genere Ma purtroppo OBS Non lo riconosceva Per un aggiornamento Che non funzionava bene Quindi boh Lo vedrete Spero presto E niente I due X3 Che avete Di cui Sto portando in serie I X3 Run Conflict Sul canale Queste sono in pratica Le serie Che produce Cioè Le recensioni Che vedrete Prossimamente Vorrei ringraziare Tantissimo Per quanto riguarda Le live Nel senso che La prima live È stata davvero Un esperimento Così a caso Ho provato Con commentatore video Ma è andata bene E sono davvero Stato molto soddisfatto Di quanto Sia andata bene Nella prima live Quindi ho continuato Come potete aver visto Ci sono vari video Sul canale Alla riguardo Del live E sono tra l'altro L'ideale Per fare dei giochi Come Euro Truck Simulator 2 Che piacciono tanto a me E piacciono tanto a voi E Mountain Blade Warband In questo caso Con il DLC Viking Concast Perché sono dei giochi Molto molto lenti In cui dei video corti Non stanno bene Però dei video lunghi Comunque giocati in live Con degli intermezzi In cui si chiacchiera un po' Si Cioè Leggo i commenti Parliamo tra di noi Sono un'ottima idea Lascio poi i video caricati Sul canale Perché a qualcuno Potrebbero interessare Ma Non mi aspetto assolutamente Che la maggior parte Di voi le guardi Anzi Cioè nel senso Sono il primo che Guarda assai di rado Un video più lungo Di mezz'ora Però davvero Non avete mai giocato Life is strange Perché non è spoilerante Non spoilerò mai nulla In nessun punto Della recensione Quindi potete guardarla tutta Senza avere spoiler La collaborazione Continuerà con altre Recensioni Ci sto lavorando Una Che spero di poter portare Presto sul canale In realtà Dipende tantissimo Dal tempo che ho libero Quindi il presto Può essere Più presto O meno presto Si vedrà Allo stesso modo Ringrazio la collaborazione Con Jalinar Con cui abbiamo fatto Una sorta di recensione I nostri pareri Sul DLC Mandate of Heaven Di Europa Universalis 4 Un amico con cui Ho intenzione Probabilmente nel futuro Di portare anche altri contenuti Magari di Europa Universalis 4 O comunque giochi strategici O della Paradox Perché lui è molto molto bravo Di Europa Universalis 4 Ha parecchie centinaia di ore All'attivo E in più Sono dei giochi Che sono molto lenti Se giocati in singoli Cioè se visti Di un gameplay Di uno che gioca in singoli Ma in molti player Possono essere un pochettino Più frizzanti E garantire Diciamo Delle curiosità in più Ecco Dei momenti più Lievi Ecco forse Farò poi anche un altro vlog Per parlarvi di Quello che ne ho pensato Dei BAFTA Dei BAFTA Awards E niente Questo non volevo parlare troppo Già ho parlato più di quanto Non pensassi Vi ringrazio Tanto 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 Di supportarmi sempre È un periodo un pochettino Di magra Purtroppo perché ho poco tempo E perché le serie Non sono delle serie Che attirano Quintale di pubblico Ma Sono molto contento Di come sta andando avanti Non mollo Non demordo Continuiamo così E Road to 500 A questo punto Io vi ringrazio per aver visto questo video Vi invito a lasciare un mi piace A iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto E a lasciare un commento qui sotto Ciao a tutti Un bel cuoricino per voi Tanto Gaio Ciao Buona giornata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti